Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Walfair Games. Io sono Walfair, il signore dei giochi e bentornati, bentornati ancora una volta su Dead Island. Allora si prosegue nella giungla, andiamo di macueto, vi faccio a pezzi tutti quanti, tutti quanti vi faccio a pezzi e siamo pure saliti di livello. Ok, allora. Ok, questo è brutto. Questo è molto brutto. Ok, questo è brutto. Dovrai morire prima o poi, eh. Ringraziamo chi si è avvicinato quello esplosivo perché se no qui non si andava avanti. E ci saremmo potuti anche crepare male, molto molto male. Ok, allora. Mi posso riarmare il manganello. Punizioni, abbiamo solo quelle del fucile e le devo razionare momentaneamente. Allora, qui c'è ancora un po' di robe. Ci sono. C'è sicuramente anche robe curative. No, non c'è più nulla. Ok. A parte la frutta. Qui c'è una cassa. Allora, spererei di non trovare altri di sti cosi che corrono strani. Ok, no, questo non si rialza. Per fortuna non si rialza. Come quello che abbiamo visto finora, che era anche a livello molto alto. Un po' di cadaveri in giro. Allora, io non capisco se lo zombie comunque che abbiamo affrontato con lo strano aveva ucciso un essere umano o un altro zombie. Mi era sembrato un altro zombie dagli occhi. Macete logorante. Fa più danno del mio coso qui. E anche più del mio macete normale. Quindi lo sostituiamo, poi potenzieremo per migliorare le altre statistiche. Allora, non siamo tanto lontani, vero? Quindi volta mi mette il puntatore. Ok, per recuperare le armi siamo vicini. E lì dovremmo sicuramente sparare, perché dobbiamo ammazzare degli umani per recuperare armi. Quindi sicuro. Non si va da nessuna parte. Consegna due armi di casse a matutero. Eh, le devo recuperare prima. Al giù c'è del fuoco. C'è qualcosa che va a fuoco laggiù. Però non so se me la sento di andare a controllare per ora, sinceramente. Oh, finalmente robe buone. Tu che cos'hai? Soldi? Sì. Ok, sì. Qua ci sono persone. Sì. Eh? Sì. Sì. Perché non Il colpo pare che non arriva lì dove Sta mirando Il coso per beccarlo in testa Questo vuol dire che Quest'arma non è proprio così precisa Qua avremo anche problemi di zombie Mi sa Tra poco Mi sa che ci servirà anche un veicolo Funzionante qua Ok Ecco cacchio Me lo aspettavo Ok zombie che corrono Non attaccate me Attaccate loro Colpo critico Dritto allo stomaco Mi sa Ok Allora ci abbiamo recuperato un po' di munizioni Per la pistola Questo è certo Ancora zombie che corrono Proprio vizio allora Ok Allora Qui c'è un veicolo Funzionante Recuperiamo un'altra cassa E ce ne possiamo andare di qua Proprio alla velocità della luce Ah che cacchio Ora si devono rianimare gli zombie Ora Proprio ora si devono andare a rianimare i bastardi Mi ero accorto Solo ora che c'erano casse di munizioni in giro qui Ancora Proprio non la vogliamo smettere Poi che correte All'ultimo proprio Ok Ok dai 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 Ok Allora non abbiamo più munizioni per Il pompa Però Abbiamo munizioni delle altre armi Almeno Ah io vorrei capire Sti zombie che corrono Proprio non ce la smettono di rompere Allora qui Non c'è Nulla Allora Abbiamo Ah io ogni volta l'indicatore Abbiamo il furgone Dobbiamo arrivare ora laggiù Per recuperare il resto Quindi ora non sarà Tanto facile Sicuro dovremo affrontare Altri che devono Altri che sparano Altri tizi Poco ma sicuro Merda E che cacchio Ok Ah no ok Quello è un amico Fine Non mi spara Però porca puttana Allora questo è anche meglio del nostro fucile Per caso Solo del resto Ma non del danno No sinceramente È meglio il mio E quest'altro fucile Qui del tizio Che abbiamo investito No Ok Allora tu Non ti serve aiuto? Se non fossi arrivato tu Saresti morto Ok Denaro e non poco Grazie Ok Possiamo Proseguire Disincagliando anche La nostra arma Allora noi siamo qui E dobbiamo arrivare qua Quindi la No La strada Non è giusta Ok Quel fucile è rimasto Glicciato Sul parabrezza Va bene È rimasto Glicciato lì Ma Non diamogli tanto peso E il gioco è anche vecchio ragazzi Quindi alla fine Qualche bug ci può anche stare Ah ecco 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 Aspettate Stava andando troppo oltre Mi segna che non siamo tanto lontani Ah ecco no Ma io dovevo prendere L'altra strada Ma che cacchio Ok Alla buon'ora E siamo anche feriti Ah Porca puttana Non l'avevo Intravisto per un attimo Mi ho preso l'infarto Caputana L'infarto Non ci avevo fatto caso Un attimino Che Qui avremmo dovuto Sparare a qualcuno Ok Ok sì Per fortuna Bibite Che miseria L'oro L'infarto Che mi hanno fatto Uh Questa pistola è migliore Aia Non è che metti la testa fuori Da là sopra Ok Ok C'è miseria Ok Oh che culo Ah io vorrei capire Se devo salire Al piano di sopra O devo entrare qui Ma mi segna qualcuno Qua giù Ok Ah Ce n'è ancora uno Ok Ok non c'è più Allora Vediamo se I loro fucili Sono magari Migliori del mio Questo no Questo no Ah in più Un bel po' di robe Che possiamo anche Recuperarci Ahah Amica male Magari anche Munizioni Allora Mi Fate passare Il tuo fucile È migliore del mio No Tirapugni Tirapugni Coso No Non me ne faccio nulla Di un tirapugni Ok E allora E anche questo è morto Ora possiamo Finalmente Ma finalmente Tornare al nostro Bene amato Villaggio nella giungla E vedere se abbiamo Sbloccato Aiutando sta povera gente Nella giungla Il mercante E poter finalmente Vendere robe Ok Allora Cassa d'armi Ve la mettiamo qui E pure l'altra Ok Io ti ho recuperato Tutto Fucile automatico A breve raggio Che però Non mi fa prendere Mannaggia Teo E 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 Dammi solo un momento Che prima Devo anche recuperare E controllare Ci sarà ora Un mercante in zona Poco ma sicuro Ci deve essere Considerando anche Che abbiamo un attimo Un'altra missione Qui vicino Che è da consegnare Ok no Abbiamo consegnato la missione Ma Niente è mercante Quindi ci dobbiamo accontentare Di quello che abbiamo Io devo anche vedere Se quest'arma Automatica Questo fucile automatico A breve raggio È migliore dell'altro Allora Questo fa 3 9 2 4 Di danno No Il danno è meglio il mio Precisione 84 Precisione 84 Tempo di ricarica Lo stesso Sono è migliore Il mio Vabbè Ci possiamo Momentaneamente Ma momentaneamente Ragazzi Fermare qui Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Ovviamente Lasciate un mi piace E lasciate Pure un simpatico commento Vi ricordo ovviamente Di iscrivervi al canale Detto questo ragazzi Da Da Walfair Games È tutto Alla prossima